L'80% della popolazione italiana vaccinata entro fine settembre, lo ha affermato il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Un segnale forte alla battaglia contro il Covid-19. Si passa dai centri specializzati ed hub ospedalieri alla possibilità di effettuare la vaccinazione grazie a medici di base, pediatri e farmacie. Attualmente in Italia 13 milioni di persone hanno effettuato il vaccino. Si parla di quasi un italiano su quattro, con oltre 22 milioni di dosi in arrivo a giugno, con la soia di somministrazione sopra le 500 mila al giorno. Per raggiungere l'obiettivo di fine settembre, sottolinea però il commissario, è necessario proseguire sulla strada intrapresa. Procedure flessibili per le prenotazioni ad agosto, continuando però a privilegiare le somministrazioni agli over 60 e ai fragili. Con l'autunno servirà invece una nuova strategia. Questa macchina nei prossimi mesi deve condurre gradualmente ad una gestione ordinaria delle attività sanitarie da parte delle amministrazioni centrali e locali competenti, affermato il commissario. Sarà comunque il governo a decidere entro il 31 luglio quando dovrà stabilire se varare un nuovo stato di emergenza e per quanto tempo, attraverso un passaggio parlamentare. La volontà principale però resta quella di una somministrazione molto più capillare e prossima al cittadino. Al momento la convinzione della maggior parte degli scienziati è che l'immunità abbia una durata di circa un anno e quindi è necessario organizzarci per i richiami, dice il generale, che proprio oggi ha avuto una riunione con il ministro della salute e protezione civile su come organizzare e gestire questa nuova fase, anche alla luce delle varianti che continuano a mutare il virus.